La città di Cremona ha bisogno di lavori di riqualificazione e di rilancio, oltre che di politiche ambientali precise e mirate, ma nonostante le risorse messe in campo per periferie, case popolari, scuole e parchi, 30 milioni di euro, molti dei problemi che da tanti, troppi anni, sono nell'elenco delle criticità dei vari quartieri, non rientrerebbero tra le priorità dell'amministrazione. Uno su tutti il traffico di via Giordano, dove l'arteria non regge più da tempo l'elevato numero di veicoli che vi transitano, con tutte le conseguenze legate allo smog che aumenta, così come accade alla rotonda che lega la Castellonese alla tangenziale, soprattutto in determinate ore della giornata. Una cosa senza niente realmente di concreto, senza nessun progetto a un punto di vista urbanistico, il 25% esclusivamente della somma del bilancio, che è 99 milioni, circa 98 milioni, quindi 26 milioni dedicati ai servizi sociali, con i soldi di 6 milioni per gli extracomunitari. Non c'è niente di concreto, non c'è una reale progettualità, hanno tagliato i soldi per il commercio, per l'artigianato, non si vede niente di nuovo rispetto a quello degli altri anni. È un bilancio che sembra di fine mandato, in realtà quasi ci siamo, è un bilancio che testimonia come addirittura non ci sia la voglia di lavorare per questa città. Non solo, mancherebbero anche concreti e reali piani di asfaltatura delle strade e dei marciapiedi, attenzione alla manutenzione ordinaria, per cui sarebbero stati messi a bilancio 600 mila euro, ma anche per quella straordinaria, per cui invece le risorse sarebbero ancora meno e con difficile copertura. Critiche dunque per l'assenza di soluzioni ai problemi portati avanti dai cittadini, sempre più in difficoltà nel far sentire la propria voce su tematiche reali concrete che riguardano la qualità della vita.